Ho visto il video di questo ragazzo su Instagram che è uno storico dell'arte e seguitolo assolutamente che è bravissimo e mi ha entusiasmata tantissimo perché mi ha svelato l'esistenza di un libro in particolare. Questo libro qui, il romanzo della volpe, quello da cui trae ispirazione il mio cartone Disney preferito, Robin Hood. È la storia che conosciamo noi, quella con gli animali antropomorfiche, sono una mia grande passione, così come le illustrazioni dei libri. Allora che ho fatto, ho aperto l'app di Amazon e subito ho cercato il libro perché lo dovevo avere assolutamente e l'ho trovato, ne ho trovato uno in italiano. Ero veramente super emozionata, ma guardate un po' quello che è successo. Mi è arrivato a casa e ho tirato fuori un libro che purtroppo non era quello che mi aspettavo. È un saggio sul romanzo della volpe, anzi è scritto anche da un professionista, però ci sono rimasta estremamente male. Se lo cercate anche voi come me, purtroppo in italiano ancora non è stato tradotto, però vi consiglio questa lettura.